Si va verso il numero, se non chiuso, controllato di turisti in piazza San Marco. La giunta, guidata dal sindaco Luigi Brugnaro, ha messo nero su bianco un atto di indirizzo per l'avvio di una sperimentazione che permetta di gestire i flussi di presenze che stanno aumentando in modo esponenziale, non senza pochi disagi, per chi vive e lavora in città. Venezia è un centro urbano delicato, piccolo e fragile, da una capacità limitata di assorbimento di visitatori, che in un anno ormai toccano la quota di 30 milioni. Una cifra enorme se paragonata ai 55 mila residenti. Lo chiedono i veneziani, lo chiede l'UNESCO che minaccia di cancellare la città lagunare dai siti patrimonio dell'umanità, lo chiede soprattutto il buonsenso. A piazza San Marco l'idea è quella di sperimentare l'accesso mediante prenotazione e pagamento di un ticket, idea condivisa anche dal ministro della cultura Dario Franceschini. Non ci saranno tornelli in piazza, dice il sindaco, ma saranno posizionati in una serie di punti d'ingresso alla città. E' solo al termine di questa sperimentazione, che sfrutterà la gelocalizzazione degli smartphone di quanti arrivano, verrà eventualmente introdotto il biglietto per l'area marciana, in alcune fasce orarie e in alcuni giorni specifici. Per agevolare i visitatori c'è la volontà di creare aree attrezzate, con bagni, spazi per chi si porta la colazione al sacco, evitando così scene di bivacchi, senza controllo, e soprattutto pensare a nuovi punti di arrivo in laguna esclusivi per i turisti, in modo da salvaguardare la vita quotidiana dei cittadini residenti.